Vivere la storia e scrivere la storia che noi viviamo nella società nella quale viviamo e la riportiamo nella poesia. Ma è un'altra piccola cosa che ha la poesia di importante per tutti. La poesia colora il nostro pensiero, la nostra presa di coscienza delle sensazioni, delle pulsioni e le coloriamo con i nostri versi, con il nostro pensiero, con la nostra espressione poetica. E poi questo è un altro che è la piccola coda su quello che ha detto il dottor Panzani. Grazie, grazie alla giuria. Oltre ai tre premi che abbiamo più volte citato nel corso delle precedenti interviste c'è un premio speciale istituito da Lilli Brogi insieme a Eva Comorosca con la quale da tempo collabora. Sì, dalla Pergola Arte e dalla direzione abbiamo dato due premi che consegnerò io con onore e piacere come amica della Pergola Arte a Gennaro Gandolfa e a Catiuscia Pizza. Sono due premi speciali costituiti da Pergola Arte. Benissimo, a me sta per iniziare la cerimonia. Lilli Brogi è ovviamente commossa e però anche soddisfatta e gratificata dalla conclusione di questa manifestazione che ha coinvolto un grandissimo numero di partecipanti. Noi potremo proporre ai nostri telesbietatori solo le immagini delle premiazioni, dei primi premi delle tre sezioni. Grazie a tutti.